Tutti soddisfatti i protagonisti ebruzzesi all'edizione 2024 della Bit di Milano, soddisfatti gli enti organizzatori, assessorato regionale al turismo con le Camere di Commercio Chieti Pescara e Gran Sasso d'Italia, soddisfatti i 30 operatori turistici presenti all'interno dello stand Abruzzo, impegnati a proporre un'offerta diversificata dai cammini al wedding, dai borghi alla vacanza attiva, dagli eventi culturali al cicloturismo e all'enogastronomia. Una unità di intenti che a detta di tutti sta consentendo finalmente di promuovere il brand Abruzzo in maniera forte. Tra gli appuntamenti di oggi il Comune di Roseto degli Abruzzi ha presentato il suo nuovo portale turistico ricco di informazioni e di suggestioni che puntano a valorizzare non solo l'ambiente costiero ma anche quello collinare. Il sindaco Mario Nugnes. Sì, la prima partecipazione alla Bit di Milano con orgoglio, con grande entusiasmo per poter far riscoprire e scoprire al tempo stesso un territorio pieno di bellezze, pieno di attrattività e pieno anche di grandi risorse a livello naturalistico, a livello di servizi, a livello di bellezza dei posti con un brand quello familiare su cui questa amministrazione sta puntando con il coinvolgimento degli operatori turistici, tutti da un turismo all'aria aperta a quello più strettamente alberghiero passando per quello extra alberghiero. Nell'incontro curato da Lega Ambiente si è poi parlato del crescente interesse verso le aree protette per il quale l'Abruzzo si conferma un laboratorio di eccellenza per la conservazione della biodiversità ma anche per l'integrazione con il turismo natura dove la sfida è puntare sempre più su infrastrutture sostenibili e ciclovie intercettando le nuove tendenze. Quindi quasi un brindisi conclusivo l'evento organizzato dall'Accademia dell'Aventricina Vastese e dal Consorzio di tutela Vini d'Abruzzo che hanno coinvolto i partecipanti nella ricerca dell'abbinamento perfetto del buonissimo salume tipico delle colline del Vastese con gli spumanti Abruzzo Doc Trabocco, progetto vitivinicolo di filiera completa che sta affermando la regione anche nell'affascinante mondo delle bollicine.